Oggi cuciniamo e prepariamo insieme gli spaghetti con il salmone e le zucchine. Facilissimo, gli ingredienti per due sono olio extravergine d'oliva, sale grosso, 140 grammi di spaghetti, 400 grammi di zucchine, del formaggio spalmabile la quantità la decidete a vostro piacere e 200 grammi circa di salmone, questo è naturale ma io preferisco un pochino di più quello affumicato. Iniziamo subito col mettere naturalmente l'acqua per la pasta e adesso in una padella mettiamo un filo d'olio e lo facciamo scarlare per bene. Quando l'ore è arrivato a temperatura andiamo ad aggiungere le zucchine tagliate a dadini e le facciamo rosolare per bene finché non sono diventate un po' più morbide e si sono scurite. A questo punto possiamo andare ad aggiungere il salmone, se usate quello fresco deve cuocere prima un pochettino di più quindi deve diventare rosa e facciamo insaporire per bene il tutto, abbassiamo la fiamma e procediamo in questo modo per qualche minuto. Quando l'acqua arriva poi a bollore andiamo ad aggiungere il sale e la pasta, io uso gli spaghetti ma potete utilizzare quella che preferite e la facciamo cuocere un pochettino in meno rispetto al tempo di cottura. Quando poi la pasta è pronta andiamo ad aggiungerla al condimento, io mi aiuto con le pinze, l'andiamo ad aggiungere al condimento e facciamo insaporire per bene il tutto quanto. Se occorre andiamo ad aggiungere un pochettino di acqua di cottura e procediamo così facendo insaporire per bene tutti gli ingredienti. A questo punto mescoliamo bene il tutto quanto, facciamo asciugare un po' dal sughetto che si è creato e per finire andiamo ad aggiungere il formaggio spalmabile. Io ne aggiungo uno o due cucchiai, viene bello cremoso e andiamo a mescolare finché non si è sciolto per bene amalgamato tutto quanto. Ed ecco qua il risultato finale. Io spero che vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate se lo rifatte, lasciatemi un bel commentino, fatemi sapere la vostra. Vi mando tanti tanti baciottissimi e se vi va vi aspetto al prossimo video.